Appuntamenti importanti per il programma natalizio di Gioiosa Marea. C'è il presepe vivente a San Giorgio, un evento che negli anni si è conquistato i galloni. Il cartellone per il resto è variegato e l'esecutivo spera che con le festività natalizie l'economia possa dare i giusti supporti agli operatori economici. Una lunga storia, questo presepe, fra l'altro è un presepe particolare. Credo che sia l'unico che venga fatto in questo modo, che è un presepe mimato sostanzialmente, non è parlato e c'è tutta una scenografia che ci porta agli anni che furono, alla nascita di Gesù Cristo. Abbiamo diversissime iniziative, abbiamo coperto tutto il mese, già un po' si sono già fatte, ma abbiamo concerti, iniziative per i bambini e arriviamo fino al 6 gennaio. Abbiamo messo in campo un'iniziativa che guarda tutte le generazioni perché pensiamo che oggi, in questa fase di grande difficoltà, di poca partecipazione che si nota in giro per il Paese, anche per quello che sta succedendo lungo le festività natalizie, diminuiscono gli acquisti, ci sono prezzi altissimi, credo che abbiamo voluto fare questo programma per dare una mano a uscire alle persone e a cominciare ad accostare la vita un'altra volta, perché credo ci sia una fase di grande difficoltà. Abbiamo scelto un prato antimafia per farlo vedere, di mattina i bambini alla scuola e il pomeriggio alla cittadinanza facendolo in quest'altro pezzo di Paese che è San Giorgio per dare una possibilità alle persone che possono venire a vederlo tranquillamente. Sono delle iniziative che servono, secondo me anche queste, per ricordare e non dimenticare quello che è successo.